Riserva, riserva, il mettere da parte qualcosa per utilizzarlo in futuro, l'insieme delle cose messe da parte, provvista, scorta. Il saggio di Balsamico Bonini arriva da una batteria di botti avviata nel lontano 1969. Il mostocotto, dopo tanti anni, ha conservato un'acidità appena percettibile, rendendolo ideale per accompagnare frutta e dessert. Provalo su un gelato alla vaniglia, oppure sulle fragole o i lamponi.